Ciao a tutti, sono WatRose e oggi condividerò con voi una risposta ad una domanda che mi è stata posta diverse volte nel corso degli anni. Molte persone mi hanno chiesto perché gli angeli appaiono nei nostri sogni. Le ragioni possono essere diverse. Ad esempio, se ci sentiamo angosciati per qualcosa, se ci sentiamo soli o stiamo vivendo una situazione molto stressante, gli angeli possono apparire nei sogni per darci conforto e supporto. Altre volte appaiono per darci un messaggio specifico su qualcosa e possono mostrarci delle immagini che possono essere simboli che si riferiscono a qualcosa che stiamo vivendo. Altre volte possono apparire per incoraggiarci ad andare avanti nei nostri progetti e facendoci vedere delle immagini che si riferiscono ai nostri sogni realizzati. Altre volte possono apparire per avvisarci di qualcosa che accadrà o che potrebbe accadere. Bisogna quindi tenere conto del contesto in cui si manifestano gli angeli nei sogni e cosa ci vogliono trasmettere attraverso le immagini e le parole. Bene, per oggi è tutto. A presto! Grazie a tutti!